ma si sono un po' grandi no leggermente con le 7 e 8 8 9 i suvalori meglio ah non ho finta ma voglio male no aspetta che c'è la lì c'era l'uomo qua la linea la fa un po' fuori c'è uno che dice fa la finta se la porta verso la basso in terra no, forse fuori guarda che viene da sboccare non devi mettere neanche la sai i materazzi il cagno fatti dalla maglia non ti metti quello, mettiti quella la così facciamo proprio la differenza no scusa, lasciamela maestra qua vediamo tutti qua come siete mesi? nudi? aspetta un secondo! monti ciao pulazzoni sarà una forza sarà una forza pulazzoni bene pensi più appesa pensa no abbiamo 25 anni oh mio Dio no regressioni infantile guarda 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 però sembri ibra sembri ibra sembri ibra ciao ciao vediamo vediamo vediamo